Ciao a tutti, oggi volevo farvi un brevissimo tutorial sul Blender noi sappiamo che quando mandiamo in atto una simulazione possiamo salvare questa simulazione come un video oppure come tante immagini che poi potremo montare in modo tale da formare di nuovo un video perché mai facciamo questa operazione? facciamo questa operazione perché nel caso in cui il computer si spenga ci sia un cortocircuito, qualunque caso, potremo perdere il video ma se noi facciamo un insieme di fotografie, un insieme di immagini potremo ricominciare a montare il nostro video finale partendo dall'ultimo fotogramma quindi nel caso in cui i nostri video siano molto lunghi siano molto complicati la cosa migliore da fare è scegliere l'opzione PNG, per esempio, JPEG quindi fare molte immagini dopodiché lanciare la simulazione e lasciare il computer girare una cosa interessante è che nel caso in cui, per esempio, la nostra simulazione abbia 150 fotografie o immagini e il computer purtroppo incontri un problema alla fotografia 75 noi dalla fotografia 75 in poi possiamo continuare la nostra simulazione basterà posizionarsi con il mouse alla posizione 75 e dire voglio la simulazione dalla posizione 75 in poi oppure scrivere nell'apposito spazio il numero 75 e il computer ricomincerà da qui la simulazione adesso vi farò vedere praticamente come funziona cosa bisogna fare benissimo noi abbiamo una serie di immagini che sono contenute dentro questa cartella vedete tutte le immagini adesso ritorniamo indietro queste immagini le voglio montare al fine di formare un video e allora cosa posso fare dunque vado su questo rettangolino e vado su video sequence editor in questo momento avevo già fatto la simulazione e ho tutte queste immagini montate nel caso voi non abbiate già queste immagini montate basta fare add image e andrete sotto desktop troverete la vostra cartella in cui avete salvato tutte le immagini basterà cliccare A per selezionarle tutte e add image strip ecco voi adesso avrete tutte le immagini se non avrete già questa nuova scheda potrete selezionare N e troverete delle informazioni start frame volete iniziare dal frame numero 1 e avere tutti i fotogrammi che sono appunto 160 è giusto potete controllare sotto end e dopo di che potete per esempio decidere che tipo di video avere ci sono queste quattro opzioni ancora ci sono delle possibilità dovete andare su post processing ed è molto importante avere sequencer azionato nel caso in cui sfortunatamente la vostra immagine sia stata registrata scusate il vostro video sia stato registrato fino all'immagine 80 selezionate le immagini 80 e riprendete tutti i video tutte le immagini scusate che avete dall'immagine 80 all'immagine 160 dopodiché vi basterà come al solito cliccare sotto animation e la simulazione ripartirà grazie a tutti per l'ascolto se avete delle domande qui le chiede